Ciao Mary Abe, siamo felici di inviarvi due modelli della nuova collezione Bio Ceramic Color of Nature. Questi swatch si ispirano ai fantastici paesaggi e colori che ci offre la natura e non vediamo l'ora di accompagnarvi nel vostro viaggio verso North Cape. Swatch! Allora, apriamo questi fantastici orologi che ci hanno mandato la swatch. Siamo a vedere questa linea che è fatta un po' per quello che rispecchia il nostro stile sia di vita che di viaggio perché è fatto con Bio Ceramic, una parte di plastica riciclata e una parte in ceramica. E' uscito questo nuovo materiale e questi sono gli orologi. Ah la meraviglia! Allora io sono curioso però adesso di aprirlo e provarlo perché secondo me sono veramente il mio nero con un po' di militare. Allora questi qua ne fanno di tanti colori. Ho visto che ci sono anche tipo beige, color sabbia, bianco, sono tutti ispirati al colore della natura logicamente. Ma anche il mio è il camuflaggio un po' vedi i colori. Proviamo. Ringraziamo la Swatch per averci rimandati in anteprima si può dire anche perché sono usciti pochi giorni fa. Io l'ho messo di qua. Dalla sinistra? Io si. Io lo metto dalla destra. Ciao! Ciao! Grazie. Grazie.